C'era una volta una bellissima ragazza di nome Aracne. Aracne era bravissima in tessitura. Un bellissimo giorno, Aracne stava tessendo un bellissimo tessuto. E i bambini gli dicevano, brava, brava, ma come fai? E lei gli ha detto, vi ringrazio ragazzi. Quando arrivo a casa, la mamma mi disse, non dovete riprendere tutti questi complimenti. Quindi riprendi tutti questi complimenti perché Atena ci ha dato il segreto della tessitura e noi non lo dobbiamo rilevare. Un giorno arrivò una vecchia dalla mamma di Aracne che chiese se poteva parlare con la figlia. Allora la mamma la porta da lei. La vecchia gli disse se poteva fare una sfida. La sfida era l'amore. E Aracne gli disse che lei poteva abbattere pure Atena. Allora la vecchia si trasforma in Atena. Si trasforma in Atena e iniziò la sfida. Alla fine Atena vide che la tessitura e dell'Atene non conteneva amore. Che andò dalla butta per terra e gli lanciò una maledizione. La sfida è la sfida. La sfida è la sfida. Grazie.